Ciao ragazzi bentornati qua sul canale, oggi nuovissimo video, oggi pronosticheremo le partite della prima giornata di UEFA Euro 2024 ma prima di tutto like, iscrizione e campanella, mi raccomando sempre attivi, seguitemi sui social, vi lascio i link nel primo commento di questo video così come in tutti gli altri partiamo dalle partite che andremo oggi a pronosticare insieme, tutte quelle della prima giornata, ricordo poi ci sarà il secondo episodio in cui andremo a pronosticare le partite della seconda giornata quelle della terza, ottava eccetera eccetera, avete capito bene Germania-Scozia, Ungheria-Svizzera, Spagna-Croazia, Italia-Albania, Polonia-Olanda, Slovenia-Danimarca, Serbia-Inghilterra, Romania-Ucraina, Belgio-Slovacchia Austria-Francia, Turchia-Georgia e Portogallo-Repubblica Ceca dobbiamo andare rapidi, se no qua stiamo tre anni Germania-Scozia, partita inaugurale di questa competizione bellissima Germania-Scozia io credo che vincerà la Germania secondo me la Germania si imporrà all'inizio, magari con un po' più di fatica secondo me la Germania sarà un po' una squadra che con il lungo andrà meglio però secondo me vince, vince e lo fa per due reti a zero secondo me la Germania ha più giocatori forti e in casa disputa questo europeo in casa propria secondo me questo può essere un vantaggio non da poco Ungheria-Svizzera si giocherà domani alle ore 15 Ungheria-Svizzera è una partita molto interessante due nazionali che a me convincono tanto l'Ungheria secondo me può essere la sorpresa di quest'anno l'Ungheria ha dei giocatori mica male Soboslai, Kerkes, Gulaksi eccetera eccetera ma anche la Svizzera non scherza Okafor, Ciaka, Sommer, Akanji due nazionali secondo me abbastanza equilibrate e secondo me finirà proprio per questo in pareggio 1-1 Spagna-Croazia partita del sabato ore 18 partita molto importante per entrambe le squadre per entrambe le compagini senz'altro sono due nazionali un po' diverse perché secondo me la Croazia è più esperta Modric, Brozovic, Pasaric sono tutti giocatori importanti la Spagna invece secondo me nazionale si è esperta perché ha dei calciatori ovviamente che con il passare degli anni rendono sempre e sono importanti hanno esperienza però secondo me la Spagna è più in costruzione secondo me la Spagna ha più talenti rispetto alla Croazia ma la Croazia allo stesso tempo è più esperta secondo me però vince la Croazia 0-1 secondo me la Croazia può fare il colpaccio passiamo alla partita più importante per noi italiani Italia-Albania secondo me è la partita più importante delle tre non si può steccare non si può steccare non me ne frega niente di come giocheremo se giocheremo male perché questa prima partita la devi vincere in qualunque modo giocando bene, giocando male facendo 0-3 in porta l'Italia non può avere scusanti non può avere scusanti l'Albania è una squadra interessante assolutamente sì ha dei calciatori niente male Aslani, Ramadani, Gym City, Berisce eccetera eccetera però l'Italia è l'Italia l'Italia è più forte la formazione iniziale almeno quella che ho visto da Sky non mi dispiace assolutamente senza altro i vari calafiori chiesa ma lo stesso frattesi possono rappresentare dei pericoli nella difesa dell'Albania motivo per cui secondo me con tanta sofferenza l'Italia la porta a casa dico 1-0 secondo me è gol nel secondo tempo e chi segna? segna proprio frattesi passiamo a Polonia-Olanda Polonia-Olanda non mi convincono più di tanto la Polonia è a fine ciclo tra l'altro non avrà Lewandowski non avrà Sviderski non avrà Milik altri giocatori forti sì Szczesny per esempio Zieninski però a me l'Olanda convince un po' di più e poi la Polonia è a fine ciclo e Dani che la Polonia non ha mai fatto bene in qualunque competizione motivo per cui secondo me l'Olanda la vince anche abbastanza facilmente 0-2 l'Olanda dispone di calciatori con un potenziale interessante l'Olanda è una squadra in costruzione ma anche formata da giocatori esperti penso per esempio a Van Dijk penso al centrocampo alle perdite di Coppominers e de Jong però penso a Reinders Reinders che può fare bene penso a Gakpo e Depay lì davanti penso per esempio anche lo stesso Xavi Simon che può fare un bel europeo un giocatore giovane ma che sta piano piano mostrando il suo potenziale Slovenia-Danimarca Slovenia-Danimarca domenica ore 18 io dico che secondo me finirà in pareggio secondo me 1-1 secondo me la Danimarca non carburerà alla prima giornata secondo me entrambe le compagini pareggeranno vedo una partita da pareggio vedo una partita noiosa non con grandi occasioni sinceramente la Slovenia senza dispone di giocatori importanti come Sesco per esempio su quello non c'è dubbio anche lo stesso Lovric o Black importa la Danimarca è ormai arrivata alla fine del ciclo ma la Danimarca dispone di pediti importanti perciò Hoiberg a centrocampo lo stesso Eriksen penso per esempio a Kier in difesa penso a Schmeichel in porta quindi la Danimarca è più esperta probabilmente ma la Slovenia non scherza per me come detto pareggeranno 1-1 Serbia-Inghilterra secondo me non ci sarà molta partita seppur la Serbia sia una squadra formata da giocatori conosciamo anche molto bene il nostro campionato Vlaovic Kostic Samarsic Milenkovic eccetera eccetera Milenko e Savic in porta l'Inghilterra è tanto più forte secondo me l'Inghilterra altrettanti calciatori da non sottovalutare per niente anzi Bellingham Sakha Foden Kane Shaw Gueye l'Inghilterra è una rosa davvero forte davvero forte motivo per cui secondo me la Serbia perde e anche male 1-3 per gli inglesi Romania-Ucraina penso che questa possa essere una partita povera anche qui di gol ma secondo me vince l'Ucraina lo fa per 0-1 l'Ucraina dispone di molto talento l'Ucraina secondo me è una nazionale che di anno in anno si sta evolvendo e ha dimostrato sempre di fare bene anche nello scorso europeo vi ricorderete l'Ucraina ha tanti giocatori che quest'anno hanno fatto bene Trubini in porta penso all'Uni del Real Madrid Dovich capocannoniere della Liga penso per esempio a Shaparenko penso a Mikolenko penso a Sudakov voluto anche da Juventus e Napoli quindi stiamo parlando di una nazionale che ha tanto materiale in casa la Romania poco la Romania non vede una nazionale molto interessante dispone solamente di Dragosin come calciatore già affermato però credo che l'Ucraina vincerà penso che possa essere una partita non dico a senso unico però quasi Belgio-Slovacchia Belgio-Slovacchia partita da tenere d'occhio la Slovacchia è meno forte la Slovacchia calzora come allenatore vedremo se riuscirà a fare bene oppure no la Slovacchia anche qui non ha del materiale assolutamente scarso non ha del materiale acerba lo botte in mezzo al campo ha Suslov là davanti quindi la Slovacchia non scherza senza altro non scherza anche Skrinjan in difesa il Belgio per quanto a me non faccia impazzire come nazionale è una squadra sia di giocatori arrivati a fine ciclo De Bruyne Lukaku per esempio però altrettanto anche altri giocatori che si stanno formando penso a Jeremy Doku del Manchester City penso a Bakayoko del PSV a Eindhoven voluto anche dalla Juventus almeno è stato accostato ai bianconeri quindi il Belgio ha un mix anche per esempio un'anna dell'Everton a centrocampo il Belgio ha un mix di giocatori ormai arrivati ma anche giocatori che possono essere decisivi Doku è da tenere d'occhio secondo me è il giocatore che potrebbe fare in assoluto meglio del Belgio in questo europeo secondo me vincerà il Belgio dico 2-0 per il Belgio Austria Francia bella partita da tenere d'occhio non la vedo così scontata nel senso vince la Francia perché vince la Francia la Francia è troppo più forte la Francia è una nazionale tanto interessante formata anche lì da calciatori di cui veramente non servono parole Griezmann penso a Mbappé penso a Giroud la davanti penso a centrocampo a Chouameni Kamalinga in difesa penso a Edouard Mendy penso a Yoris Importa quindi la Francia ha lo stesso Ménián la Francia non ha bisogno di presentazioni l'Austria è una nazionale da tenere sott'occhio perché è una nazionale che può dar fastidio motivo per cui secondo me non sarà una vittoria netta vince la Francia 1-2 penultima partita che pronostichiamo Turchia-Georgia qua qua ragazzi vi dico una delle prime sorprese secondo me pareggiano secondo me la Turchia non parte molto bene 1-1 la Georgia senza altro è sulla carta inferiore ai Turchi però la Georgia secondo me nella prima giornata può fare bene Kovarazkelia potrebbe essere il marcatore chissà Anomi Kautaz e Anomard Dajvili Importa la Turchia è una nazione molto interessante la Turchia è una nazione molto interessante il Dis Cianhanoglu sono i giocatori più rappresentativi ma senza altro lo stesso Arda Guler può fare molto bene Badini Importa quindi la Turchia anche lì non scherza assolutamente però alla prima floppa alla prima floppa 1-1 Portogallo Repubblica Ceca anche qua secondo me non sarà scontatissima però vince il Portogallo di Cristiano Ronaldo dico 2-0 il Portogallo è troppo più forte la Repubblica Ceca la Repubblica Ceca si ha dei giocatori interessanti penso ad Anthony Barak penso a Schick là davanti che di anno in anno sta carburando sempre meglio il Portogallo a una squadra che secondo me è una dei più forti sulla carta per esempio Vitini in mezzo al campo Cristiano Ronaldo là davanti Leao Guerreiro Diogo Costa penso anche a Joao Felix quindi il Portogallo dispone di un materiale tecnico che insomma in poche squadre hanno non secondo me non sarà secondo me la migliore partita del Portogallo però la prima la vincono con qualche difficoltà ma la vincono vi dico il marcatore Cristiano Ronaldo 2 gol fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti io ho fatto tutti i miei pronostici noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti